Il mio lavoro ha come medium principale il disegno. Mi interessano in generale forse tutti quegli aspetti che nella nostra cultura occidentale tendono a essere considerati come minoritari, quindi la donna, l'animale, il primitivo, l'esotico. È come se volessi ricostruire un immaginario che si riappropria di questi mondi arcaici, di portare alla luce e di dargli quella importanza che meritano.